Parte 2, il diritto d'autore, principi fondamentali, l'ho intitolata in modo molto descrittivo. E iniziamo a rispondere a questa primissima domanda, che è domanda di fondo, cioè che ci aiuta a capire sostanzialmente dove ci stiamo muovendo, a definire qual è il campo d'azione, il seminato in cui oggi ci muoviamo. E iniziamo anche a conoscere la legge di riferimento. Vedete che c'è un articolo, questa slide che vi sto proiettando è semplicemente una norma che io ho preso dal corpus normativo, una legge in vigore e ho tagliato un po' dove vedete i puntini e ve l'ho rimessa nella slide. Ed è presa dalla legge 633 del 1941, che è la legge che ci accompagnerà sostanzialmente per tutta la giornata di oggi. La legge italiana sul diritto d'autore, cioè è una legge speciale che si occupa in 200 circa articoli di tutte le regole che l'ordinamento giuridico italiano prevede in materia di tutela delle opere creative. E l'articolo 1, come più o meno succede in tutti i testi di legge, definisce il campo d'azione della legge. Cioè di cosa si occupa questo testo di legge, se è trattato del 1941. Annotazione importante, è del 1941, quindi effettivamente è una legge abbastanza antica, cioè ha 80 anni, ma non è rimasta uguale a se stessa dal 1941, ecco quindi non rimanete diciamo particolarmente sconvolti da questa cosa. Cioè il diritto d'autore si è evoluto ovviamente sulla base anche dell'evoluzione tecnologica, ha subito vari aggiornamenti, e quindi anche questa legge contiene delle modifiche che vedremo, ve le segnalerò, vedrete che ci sono dei DIS, dei TER, dei QUATER classici che si indicano che sono stati aggiunti dei pezzi, sono stati aggiunti delle norme. Vedremo dei riferimenti a concetti legati al mondo della tecnologia che palesemente il legislatore del 1941 non poteva immaginarsi, lo vedete già qua in basso perché si parla di programmi per il laboratore, di software, quindi dubito che nel 1941 il legislatore italiano fosse stato così lungimirante da pensarci, e quindi chiaramente già in questa prima norma vedete un primo paragrafo che è del 1941, ma poi un secondo paragrafo che è stato aggiunto successivamente negli anni 90 sulla spinta, direi su invito, di alcune direttive europee. Le direttive europee non le citerò molto, però vi segnalerò quando sono diventate fondamentali, perché come vedremo dagli anni 90 in poi, buona parte delle novità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano in materia di diritto d'autore vengono da direttive europee, perché la materia copyright, marchi, brevetti, cioè tutto quello che riguarda la proprietà intellettuale, è diventata competenza del diritto, come si dice, sovranazionale, cioè quindi a livello, le regole, i principi generali vengono decisi in sede europea e poi si fanno le direttive che devono poi essere recepite dal legislatore italiano, e così è stato dagli anni 90 in poi. Quindi le grandi novità che abbiamo avuto in questa legge in realtà sono quelle più recenti dagli anni 90 in poi, appunto, sono tutte figlie di direttive europee. E la prossima sarà a breve, cioè avremo una direttiva europea, abbiamo, scusate, non avremo, la direttiva europea c'è già da un bel po', dall'inizio del 2020, quindi ormai da un anno, scusate, no, addirittura del 2019. Ma, come sempre, il legislatore europeo stabilisce poi un tempo massimo entro cui gli stati membri possono prendersi il tempo per recepire, per fare il testo della legge nazionale per recepire i principi e dovrebbe arrivare adesso, ci si immagina, probabilmente intorno a marzo, la legge che andrà a sua volta a modificare ancora, quindi ad aggiungere o modificare articoli in questa legge 633. Quindi chissà, dovrò forse nei miei prossimi corsi modificare queste slide che mi porto dietro da un po' di tempo. Comunque, chiusa, almeno abbiamo definito anche il contesto normativo, il contesto normativo di riferimento. Vediamo cosa dice questo articolo 1. Ci dice che, vedete, sono protette essenze di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo. L'ho messo in rosso queste paroline, queste cinque parole, perché opera dell'ingegno di carattere creativo è esattamente l'oggetto della tutela del diritto d'autore, cioè quindi la risposta a quella domanda che trovate là in alto, che cosa tutela il diritto d'autore, la risposta è tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Poi dobbiamo andare a capire bene che cosa si intenda per opera dell'ingegno di carattere creativo, però carattere creativo ci deve già venire, cioè ci deve già far sorgere tutta una serie di interrogativi e far capire che questo carattere creativo è il requisito fondante della tutela del diritto d'autore. Cioè, detto in altre parole, cioè in un altro giro, se non c'è carattere creativo non c'è diritto d'autore. Quando c'è carattere creativo scatta la tutela, la vera e propria tutela del diritto d'autore. Vedremo che in alcuni casi la legge prevede che in mancanza di carattere creativo ci sono opere che possono essere comunque tutelate con un diritto che però viene chiamato o diritto connesso o diritto sui generi e via dicendo. Il diritto d'autore con, diciamo, la D e la maiuscola, veri e proprie, è quello in cui l'opera denota un carattere creativo, cioè un'attività vera e propria creativa in cui c'è un autore che trasmette il suo modo di vedere il mondo, il suo stile, la sua visione delle cose, e vedete che lo fa attraverso, vedete, questi cinque, sei campi principali della creatività umana. Infatti dice, opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e dalla cinematografia, qualunque ne sia il modo la forma d'espressione. Quindi ha elencato sostanzialmente, quindi ha messo in luce il discorso dell'opera dell'ingegno di carattere creativo, quindi opera dell'ingegno, carattere creativo come requisito fondante e poi ha circoscritto ai principali campi della creatività umana, letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia. Però poi dice qualunque ne sia il modo la forma d'espressione, quindi in realtà non è un elenco così chiuso, perché ha percepito già nel 1941 il legislatore che queste forme di creatività si sarebbero poi evolute nella loro manifestazione ed è quello che sta succedendo oggi, cioè adesso no, dicevamo prima come battuto, ormai si fa tutto dietro uno schermo. Eh sì, è vero, perché adesso attraverso un unico mezzo di comunicazione che è internet, attraverso un unico aggeggio che è il computer o lo smartphone, vabbè, perché poi in realtà non sono così diversi da loro, se non nella dimensione dello schermo, noi fruiamo più o meno di buona parte di queste cose che abbiamo visto, no? Fruiamo di letteratura, di musica, di cinematografia indubbiamente, un po' meno fruiamo di architettura, perché insomma, sì è vero, anche l'architettura può essere fotografata e condivisa attraverso uno schermo, anche il teatro può essere trasmesso attraverso internet, attraverso uno schermo, però insomma la fruizione classica del teatro è seduti su una sedia in un teatro, cosa che non so quando riusciremo a fare ancora, però prima o poi succederà. Però ecco, era per dire che il legislatore aveva pensato che più o meno queste forme classiche di creatività si sarebbero evolute, ma poi vedete nel secondo paragrafo ci sono quelle che invece il legislatore difficilmente si poteva immaginare e che non sono solo una nuova, cioè che non sono solo un'espressione diversa di qualcosa che esisteva prima, ma sono proprio cose nuove, sono proprio tipo di creazioni diverse e infatti dice sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche didattiche per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Quindi sostanzialmente software e banche dati che sono le due grandi nuove forme di creatività su cui oggi si concentra buona parte anche del business del copyright, cioè se pensate al business delle applicazioni, dei sistemi operativi, del software in generale, quanti soldi di genera, noi sono cresciuti con i ricconi, i grandi magnati che adesso sono ancora probabilmente le persone più ricche del mondo anche se sono ritirati, uno è morto e l'altro si è ritirato a vita privata, Bill Gates e Steve Jobs, cioè ci hanno venduto licenze, ci hanno venduto copyright per 30 anni, ce lo stanno vendendo ancora e quindi capite quanto pesa la proprietà intellettuale e il diritto d'autore nell'economia mondiale perché sono temi davvero molto molto delicati. Guardate, sottolineo solamente una cosa perché so che tra di voi sicuramente ci sono molte persone che vengono da una formazione letteraria, umanistica direi in generale, che dice, cioè che equipara il software alle opere letterarie. Provate a pensare perché lo fa. Non c'è bisogno che mi date una risposta però. Cioè tra tutte le varie equiparazioni che poteva fare, similitudini che poteva fare, ha scelto l'opera letteraria, cioè il software viene equiparato a un'opera letteraria. Perché non un'opera di architettura, un'opera grafica ad esempio, quindi arte figurativa? Perché c'è un motivo in realtà tecnico che è il modo con cui si crea il software. Cioè il software nasce in forma testuale in realtà. Sicuramente chi di voi insegna informatica, si occupa di informatica lo sa. Per chi magari viene da una formazione letteraria magari può essere un po' disorientante. Ma chi sviluppa software lo fa scrivendo, lo fa scrivendo codice. E questo codice è a tutti gli effetti un testo con una sintassi, con delle regole, con un linguaggio, con dei termini che bisogna conoscere. Quindi con una lingua artificiale creata dall'uomo che parlano solamente quelli che si occupano di quello sviluppo di quel tipo di linguaggio. Però a tutti gli effetti la creatività del software è simile alla creatività di un manuale tecnico. Cioè scrivere un manuale di istruzioni per un automobile è un'operazione molto simile a quella di scrivere un software per istruire il computer a fare la stampa 3D. Non lo so, sto inventando, però per dire che l'attività che ci sta dietro è simile. Ok? E infatti dal punto di vista del diritto d'autore quello che si va a esaminare nella tutela del software e nelle varie cause che possono nascere sull'eventuale plagio, eventuale contraffazione del software sono proprio legate al codice sorgente. Cioè si va a vedere non tanto cosa fa il software o l'interfaccia grafica, ma si va a vedere come è stato sviluppato, cioè si va a vedere il cosiddetto codice sorgente, cioè come gli sviluppatori hanno scritto le varie funzioni. Vabbè, l'articolo 2, che è la norma successiva, non fa altro che scomporre questo elenco che è già stato fatto nell'articolo 1 in 10 sottocategorie. Adesso qua ne vedete 7, nella slide successiva ne vedete altre 10. Era lunga, quindi ho dovuto spezzare in due slide e l'ho già tagliata molto, è una norma molto lunga, però vedete ecco queste sono le 10 categorie di opere di cui si occupa il diritto d'autore. Ergo, se ci stiamo interrogando sul fatto che qualcosa possa essere tutelato o meno dal diritto d'autore, la prima cosa che devo fare è andare a prendere l'articolo 2 e vedere se rientra in questo elenco. Se non vi rientra, potrebbe rientrarci comunque, diciamo, per similitudine, per quello che dicevamo prima, il qualunque ne sia il modo, la forma di espressione. Ad esempio, un sito web è un'opera assolutamente tutelata dal diritto d'autore, non c'è in questo elenco di 10, non c'è un punto 11 che parla di siti web, però i siti web sono un mix di opera letteraria, perché c'è del testo, è un mix di grafica, è un mix di software, è un mix di banca dati, quindi comunque il sito web è un'opera che viene definita multimediale, a volte anche c'è della musica nel sito web, viene chiamata un'opera multimediale perché appunto prende elementi creativi di varia natura e li mette insieme, quindi comunque tutelato dal diritto d'autore. Ma se un tipo di creazione non rientra in questi 10 e neanche per similitudine non riusciamo a farci rientrare, allora deve essere un campanello d'allarme che ci dice che probabilmente quella roba lì non è tutelata dal diritto d'autore, forse è tutelata con qualcos'altro, o forse non è tutelata del tutto, e questo cercheremo di vederlo insieme. Comunque, velocemente, vedete il punto 1, parla di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, questo è uno di quelli che credo vi interessi di più, cioè fare una dispensa, fare una presentazione a slide come quella che state vedendo, fare una lezione, cioè la sbobinatura di questo mio webinar genera un'opera letteraria, quindi anche se io adesso sto parlando, però quella che sto facendo non è un'opera teatrale, non è un'opera musicale, non sto cantando, sto facendo una lezione e questa lezione, nel momento in cui qualcuno la registra e la sbobina, diventa una sorta di manuale sul diritto d'autore, di vademecum operativo sul diritto d'autore, ed è un'opera letteraria, anche se resa in forma orale, un'opera letteraria di carattere didattico, perché sto facendo una lezione. Le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, costituenti di per sé opera originale, poi punto 3 le opere coreografiche pantominiche, il punto 4 le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione, arte figurative similari, compresa la scenografia, quindi tutte le forme di creatività figurativa, compresa la scultura, come abbiamo detto, il disegno, la scultura, la grafica, la grafica 3D, rientra tutto qua. I disegni e le opere dell'architettura, queste sono a parte, perché le opere dell'architettura non hanno una semplice fruizione grafica, ma le opere dell'architettura vengono disegnate, ma per poi essere costruite, per essere edificate, quindi non devono essere solo di fruizione intellettuale, ma devono anche stare in piedi e funzionare. Il punto 6 le opere dell'arte cinematografica muto sonora, il punto 7 le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Anche qua vedete, procedimento analogo a quello della fotografia è quello che sta succedendo adesso, nel senso che il legislatore del 1941 pensava ad una fotografia che era quella dei rullini o probabilmente nel 1941 addirittura ancora le lastre, e poi siamo arrivati appunto ai rullini e poi siamo arrivati alla fotografia di oggi, che è quella senza supporto, cioè una fotografia che nasce direttamente in digitale, cioè la macchina fotografica, il cellulare che sia, genera un'immagine che è direttamente un file salvato su una memoria, quindi la fotografia è un file. Arriviamo al punto 8, 9 e 10, che sono quelli che, come vi dicevo, sono stati introdotti con le famose direttive, quelle più recenti dagli anni 90 in poi, recenti poi insomma, recenti per noi che siamo vecchi, ma quando racconto ai miei studenti questa cosa, quelle più recenti, i miei studenti sono nati, sono del 99, quindi queste direttive sono una del 91 e l'altra del 96, quindi per loro è comunque preistoria. Ad ogni modo, appunto, il punto 8 dicevo, parla di programmi per i laboratori, introdotto nel 92 a seguito della direttiva del 91, sui programmi per i laboratori in Europa, il punto 9 parla di banche dati e ne fornisce anche una definizione, è interessante però non possiamo leggere tutto nel dettaglio perché altrimenti non ce la facciamo in due ore, e infine il punto 10, il più recente, addirittura primi anni 2000, le opere del design industriale, che presentano di per sé caratteri creativi e valore artistico. Vabbè, in un contesto come questo forse ci interessano di più quelle classiche, nel senso nell'attività didattica, normalmente, nell'attività che si fa a scuola, normalmente entrano in gioco le opere letterarie, scientifiche, didattiche, classiche, o religiose, o drammatiche, ma anche quelle musicali, anche quelle della scultura, pittura, arte e disegno, anche quelle dell'architettura, a seconda del tipo di scuola, anche quelle fotografiche volendo, un po' meno le banche di dati, un po' meno quelle di design, a meno che si tratti di una scuola specializzata in quel settore. Il software è interessante perché il software, cioè tutti gli istituti che insegnano anche l'informatica, se le insegnano in un modo abbastanza proattivo e operativo, insegnano anche a programmare, quindi a creare codice e non solo a sapere come funziona un computer, come si utilizza un software. Quindi l'informatica è creatività informatica anche. E quindi conoscere i diritti sul software è interessante. Ripeto, in un corso come questo dobbiamo rimanere su un livello un po' più generico e quindi parlare di diritto d'autore per principi generali e non soffermarci sui singoli tipi di opere, ma sarebbe interessante farlo. Potete comunque vedere i miei video appunto per chi volesse soffermarsi su software, che ne so, su fotografie ad esempio, ci sono degli approfondimenti. Rispondiamo però alla domanda adesso al negativo. Ci abbiamo capito di cosa si occupa diritto d'autore, adesso vediamo di cosa non si occupa. Così sgombriamo il campo da una delle principali e diffuse leggende metropolitane sul diritto d'autore, cioè la leggenda metropolitana secondo cui il diritto d'autore tutela le idee, chissà quanti ci sono cascati, magari anche qualcuno di voi, e pensare che ho avuto io un'idea e quindi quell'idea lì è mia e ho il copyright su quell'idea. E quindi secondo questa teoria chiunque faccia qualcosa che vagamente tocchi quell'idea deve pagare qualcosa, deve chiedermi il permesso. Ovviamente per fortuna non è così, non è sufficiente la semplice idea astratta per poter vantare un diritto, ma dobbiamo estrinsecare quest'idea in una forma concreta di opera. Cioè l'idea non è tutelata, in altre parole, ma viene tutelata l'opera, una di quelle dieci che abbiamo visto, in cui l'idea si manifesta. Allora sì, però l'idea astratta, la semplice idea, non porta a tutela. Infatti lo dice anche l'articolo 9 numero 2 dei TRIPS, uno dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuali, e che quindi fa sì che questo principio ce l'abbiano più o meno tutti gli stati moderni che hanno aderito a questa convenzione, e dice che la protezione del diritto d'autore copre le espressioni, e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento, i concetti matematici in quanto tali. Cioè quindi è come io esprimo un'idea, non l'idea in sé che viene tutelato. Questo fa sì che possono esistere N.000 manuali di algebra, N.000 manuali di diritto d'autore, pensate al mio settore, il diritto come anche la matematica sono quelle materie che spiegate ad un livello medio, base medio, sono più o meno uguali sempre a se stessi, cioè non è che le cose che trovate nel manuale scritto da tizio siano molto diverse del manuale scritto da Caio, è come l'hanno scritto che cambia, ok? Soprattutto se parliamo di matematica, di algebra, matematica, geometrie, cioè sono cose che sono con principi acquisiti, così sono, e la differenza sta nel come l'autore riesce a spiegarmi questi concetti, sta nella grafica, sta negli esercizi, sta nella disposizione, nell'organizzazione degli argomenti, cioè scegliere di trattare prima un argomento piuttosto che un altro. Quella è una scelta creativa, quindi quello genera un diritto d'autore, ma non la semplice idea, ok? Quindi toglietevi dalla testa il fatto, il pensare che solo l'idea vi possa garantire un diritto.